Per due anni, nel 2009 e nel 2010, avrebbero truffato il comune di Taranto facendo pagare per il conferimento in discarica dei rifiuti una tariffa maggiore rispetto al reale prezzo di smaltimento. Un costo pioneroso per il comune, che lo avrebbe riversato automaticamente sulle tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani pagate dai cittadini. Un presunto ricavo illecito per la discarica in questione che avrebbe tratto un ingiusto profitto ai danni dell'ente municipale. Una bile truffa continuata che sarebbe stata messa a segno dell'amministratore della discarica stessa, scoperta dalla Guardia di Finanza che ha portato ad una denuncia e al sequestro di somme equivalenti all'importo della truffa stessa che sarebbe pari a 260.000 euro. Le fiamme gialle, al termine di una complessa operazione di indagine che ha portato a scoprire la presunta truffa, parlano di più azioni messe in atto per portare avanti un unico disegno criminoso. In particolare, l'amministratore della discarica, stando ai militari delle fiamme gialle, avrebbe applicato indebitamente una tariffa per il conferimento dei rifiuti in discarica pari a 92 euro a tonnellata. Prezzo questo che in realtà sarebbe quello previsto per il conferimento nell'impianto di produzione di CDR combustibile dai rifiuti al posto della tariffa di 54 euro a tonnellata, prevista appunto per il semplice smaltimento in discarica. Per il presunto ricavo illecito è stato dunque disposto un sequestro preventivo pari a 260.000 euro.